Buongiorno a tutti, prosegue la serie delle interviste dell'Ufficio Informativo del Comune di Grosseto. Incontriamo oggi tra i nostri ospiti Roberta Piraccioli, coordinatrice della Rete dei Musei di Maremma, alla quale chiederemo come la Rete dei Musei di Maremma abbia vissuto questo periodo di chiusura, quali sono le novità che ci aspettano, ma anche un po' presentare quella che è l'offerta e che cosa rappresenta questo ente. Buongiorno Roberta. Buongiorno a te, grazie per questa opportunità. I Musei di Maremma sono una realtà molto importante nel territorio grossetano perché è un sistema, una rete che unisce la maggioranza dei musei presenti sul territorio, oltre una cinquantina, e esiste dal 2004, quindi ha una lunga storia alle spalle. La rete si occupa di lavorare sulla comunicazione, quindi gestisce il sito, la pagina Facebook è importantissima perché lì mettiamo tutti gli eventi di tutti i musei che appartengono a questo sistema. Abbiamo organizzato in passato degli eductor, cioè dei tour per giornalisti, per portarli a visitare i nostri musei. È una rete estesa a tutta la Maremma, infatti va praticamente dal nord al sud, senza soluzioni di continuità, comprendendo tutti i musei delle colline metallifere, la Miata, il centro della Maremma con Grosseto e i vari musei di Grosseto, l'Argentario, la zona del Tuffe come offerta, e va dall'archeologia all'arte sacra, ma anche per esempio l'attualità e il contemporaneo con la storia mineraria dei vari territori. In questi mesi di chiusura abbiamo realizzato un gestionale informatico molto importante che a breve sarà pubblicato sul sito del musei di Maremma, che è museidimaremma.it e questo gestionale servirà per tenere sotto controllo gli eventi. In pratica ogni museo inserirà i suoi eventi e si creerà quindi un calendario in modo tale che sia i musei, sia i visitatori che andranno lì direttamente, ma anche gli uffici turistici per esempio o gli operatori turistici stessi, penso agli alberghi, agli agriturismi, potranno andare a cercare gli eventi di un territorio, su un argomento per esempio qualche cliente, visitatore interessato all'archeologia, potrà vedere tutto quello che sull'archeologia viene fatto nel periodo di interesse in questo territorio. Perché comunque anche con questa situazione, purtroppo il distanziamento che io chiamerei fisico più che sociale, perché sociale mi piace poco, comunque i musei si stanno organizzando con eventi, ci saranno sicuramente delle mostre che sono già in programma, ci saranno visite guidate, quindi sempre in maniera contingentata, ma le attività ci saranno. Mi sembra un'offerta di tutto rispetto riguardo al panorama mare in mano nel suo insieme ed uno strumento eccezionale perché consente di mettere ordine, di trovare un po' gli eventi già raggruppati e selezionati per target di interesse. Due parole su un altro progetto della rete di Maremma, che era stato quello delle guide dei musei, che aveva prodotto una bellissima collezione. 15 volumi, il primo si intitola La Maremma dei Musei, ma è un viaggio in Maremma attraverso i musei, quindi dal territorio al museo e dal museo al territorio con un rimando continuo. Tra l'altro quando abbiamo progettato questa collana abbiamo fatto la scelta di incaricare uno scrittore, un giornalista viaggiatore, perché il linguaggio di questo scrittore, che si chiama Andrea Semplici, è un linguaggio fascinoso, accattivante, quindi nella scientificità dei testi, perché sono stati riletti poi dai direttori dei musei, ma anche da specialisti dei vari argomenti, nella scientificità abbiamo questo linguaggio che è comprensibile a tutti, quindi semplice, ma affascinante e corretto. Sono veramente volumi interessanti, che coprono tutta La Maremma. Uno strumento valido per conoscere questo territorio e l'offerta di questo territorio che continua assolutamente a stupirci. I musei come le aree archeologiche, i parchi naturali hanno pian piano ricominciato ad aprire e stiamo sperimentando le prime formule di riavvicinamento sociale e fisico. Un appello che i musei di Maremma, insieme alla Fondazione Musei Senesi, in tutto siamo oltre 100 musei toscani, siamo fatti promotori di un appello al ministro Franceschini, perché adesso è su change.org, quindi chiunque volesse andare a firmare e sottoscrivere la petizione, lo può fare. Questi tre mesi di chiusura hanno messo un po' in grave difficoltà i comuni che sono proprietari dei musei, o comunque anche i privati che sono proprietari di musei non statali. Quindi i musei non statali soffrono in questo momento e avremmo bisogno di una certa attenzione da parte del ministero. Roberta, io ti ringrazio per il tempo che ci hai voluto dedicare e speriamo di rivederci presto dal vivo. Sì, grazie.